Sara Novelli Nasco a Genova nel 1970, laureata in archeologia. Ho lavorato per 12 anni in un museo etnologico. La mia arte si sviluppa attorno al pensiero acefalo, nato da un sogno notturno, durato 30 giorni, dove un umano senza testa ruota in un vortice. Il trentunesimo giorno ho realizzato vortice. Il sogno è finito, è stato esorcizzato e ho continuato a creare. Racchiusi nei quadri l'archeologia, l'etnologia, i lunghi viaggi in giro per il mondo, la pratica yoga, le tappe vitali dalla nascita alla morte, il nostro presente, la nostra società. Sono quadri materici dove l'essere antropomorfo acefalo è elemento centrale dell'opera. Per me è la rappresentazione dell'uomo contemporaneo senza testa, senza pensiero. In realtà i miei omini sono corpi senza testa, mani, piedi, ma capaci comunque di rappresentare un pensiero, un'idea, un'emozione in modo pulito, lineare, materico. Prendono forma nella stoffa, la smaterializzano, le danno significato, si colorano con lei, fanno e disfano e nessun materiale meglio del tessuto mi dà la possibilità di rendere questo concetto. Trama e ordito, fatto e disfatto. I miei acefali sono assessuati, non ci sono peni, seni, vagine, ma in alcuni casi la loro sessualità emerge dal simbolismo culturale. Ho esposto in mostre collettive e personali Presto Satura, Genova, Galleria Studio 44, Genova, Museo di Sant'Agostino, Genova, Casa di Dante, Firenze, Via del Campo 29 Rosso, Genova, partecipazioni con anonima illustratori a Festa delle Librerie Indipendenti, Biblioteca Berio, Genova, Festival Incantastorie, Mercato del Carmine, Genova. Festa delle Librerie Indipendenti,